È la città dello sport che anche quest'anno, nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26, torna negli impianti sportivi del Matassino per ospitare associazioni e altre realtà sportive e territoriali, pronti a mostrare le attività di cui si fanno promotrici, con tanto di lezioni e di prova gratuite. Quest'anno abbiamo voluto concentrare gli sforzi in particolar modo per dare l'opportunità a almeno 600 bambini delle nostre scuole tra primaria e secondaria di primo grado per rivolgere l'attenzione in particolar modo a quelli che poi avranno la possibilità di iniziare a fare sport. Molte saranno infatti le iniziative svolte nei due giorni per avvicinare sempre più i ragazzi al mondo dello sport. Anche quest'anno rinnoviamo la partnership come main sponsor con Deatron, che ringraziamo per quello che sarà un servizio importante che potremmo dare ai bambini, cioè l'accesso con una piccola tesserina ad una sorta di lotteria alla quale effettivamente si accederà provando un quantitativo abbastanza consistente di sport e che permetterà poi di accedere alla selezione di kit per iniziare il proprio sport. Una scelta che viene facilitata da queste due giornate dove tutti i bambini potranno scegliere liberamente la loro attività preferita affinché maturi sempre di più l'amore genuino per lo sport.